Il raggruppamento, il pastore rumeno di Miorizza, pastore sfizio a Rovianco, pastore tedesco a pelo lungo, Australian Gateldog, pastore olandese a pelo corto, pastore de la Brie, pastore scozzese a pelo lungo, Border Collie, pastore scozzese Shetland, Welsh Corgi Pembroke. Sono dieci i raggruppamenti per i giovani, il giudice Fabrizio Larocca tratterrà un soggetto per ciascuno dei raggruppamenti. Vediamo quale tra i cani da pastore Bovari si fermerà con noi. Australian Gateldog In questi casi tutti vorrebbero essere messi nell'angolo perché vuol dire che restano con noi per la finale. Per cui procediamo con il secondo raggruppamento giovani, quindi Alano Fulvo, Alano Arlecchino, Alano Blu, Terranova, Mastino dei Pirenei, Dogo Argentino, Schnauzer Gigante Nero, Bull Mastiff, Boxer, Cane Corso, Schnauzer Pepe Sale, Schnauzer Nano Pepe Sale, Schnauzer Nano Bianco, Schnauzer Nano Nero Argento, Schnauzer Nano Nero. Ed è tutto per il secondo raggruppamento. Vediamo quale tra i soggetti del secondo raggruppamento, sempre ricordo di età giovani, si fermerà con noi per la finale nella disputa del titolo di miglior giovane di questa prima esposizione del binomio che porterà alla conquista del Garda Winner 2018. Poi approfondiremo la conoscenza delle razze, quando andremo a vedere i raggruppamenti ufficiali in cui sono divise le razze stesse. Bull Mastiff. Boxer, Cane Corso. Siamo quindi al gruppo degli Schnauzer, con lo Schnauzer Pepe Sale, schnauzernano pepe sale schnauzernano bianco nero argento e nero resta con noi si metta là nell'angolo schnauzernano nero cane corso terra nova schnauzernano nero il cane corso si mette nell'angolino insieme al pastore australiano australian cattle dog un saluto agli altri che lasciano ringuscendo sull'altro lato rispetto all'ingresso grazie ed ecco quindi dal terzo raggruppamento americano safforshire terrier english bull terrier safforshire bull terrier irish carrie blue terrier irish terrier wild fox terrier west highland white terrier toy terrier black and tan yorkshire terrier edificio 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 irish cariblu irish serea anglisch toy terrier e due irlandesi e un inglese in queste finali tra i giovani terrier per vedere chi sarà rappresentante nelle finali della disputa di miglior giovane irish cariblu siamo pronti per il quarto raggruppamento Bassotti ecco quindi Bassotto standard a pelo duro Bassotto nano a pelo duro Bassotto canichia a pelo duro Bassotto nano a pelo corto Bassotto Massotto Bassotto Bassotto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si ferma con il bassotto nano a pelo duro e siamo pronti per il quinto raggruppamento. Alaskan Malamute, American Akita, Pharao Hound, Samoyedo, Sabirin Husky, Ciao Ciao, Shiba Inu. Grazie a tutti. 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 Portoghese, Lagotto Romagnolo, American Cocker. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Vediamo quale soggetto tra i presentati dell'ottavo raggruppamento verrà scelto dal nostro giudice Fabrizio Larocca per rappresentare i cani da riporto, da cerche e da acqua nella disputa del titolo di miglior giovane soggetto dell'esposizione internazionale Cane del Club Giulio Colombo. Cane d'acqua portoghese, Portuguese Water Dog resta con noi. Dal nonno raggruppamento Barbone Grande Mole Marrone, Barbone Media Mole Nero, Carlino Fulvo, Epaniel Nano Continentale Papillon, Boston Terrier, Bulldog Francese, Chihuahua Pelo Corto, Chihuahua Pelo Lungo, Maltese. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Non è un raggruppamento quello dei cani da compagnia, un raggruppamento piuttosto numeroso. Buldo Francese, Resta con noi dal decimo raggruppamento, Levriero Afgano, Levriero Afgano, Levriero Persiano, Wippet, Piccolo Levriero Italiano. Buongiorno, Veterani nel pre-ring, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vigla, cane d'acqua portoghese, buldo francese e piccolo, levriero italiano. Ero distratto a presentare i cani e non ho sentito l'applauso del pubblico. Ah, ecco. Abbiamo qui dieci finalisti. Tra i migliori giovani dell'esposizione. Fabrizio, ci richiamo sul podio per chiamarli, no? Ah, ok. Selezione quindi per il Passotto, il Samoyedo, il Dalmata e un grazie a tutti gli altri espositori di questi splendidi giovani che hanno vinto il titolo di miglior giovane nella loro razza a questa esposizione internazionale canina. Passotto, Nano, a pelo duro. Samoyedo. Dalmata. Ci raggiungerà quindi qui sul terzo posto il Dalmata. Al secondo posto il Passotto Nano a pelo duro, miglior giovane dell'esposizione internazionale canina Canel Club Giulio Colombo, il Samoyedo. Siamo quindi pronti per presentare la prossima. La prossima classe è l'ultima che ha come denominatore comune l'età, un'età che in questo caso è superiore agli otto anni. Sto per presentarvi i migliori veterani dell'esposizione, migliori veterani che saranno giudicate dal nostro... Sto per presentarvi i migliori veterani dell'esposizione internazionale, migliori veterani dell'esposizione internazionale, migliori veterani dell'esposizione internazionale.